Volevo aggiornarvi sulla situazione dei farmaci che sono di solito prescritti nei pazienti con cardiopatia ipertrofica. Immagino sappiate che il ritmo da retard in questo momento non è disponibile in Italia perché la ditta che ha comprato la licenza Clefafarm, una ditta tedesca, non ha ancora ottenuto la possibilità di distribuirlo in Italia. Dalle sue comunicazioni immaginiamo che questo sarà possibile probabilmente nel mese di ottobre. Le farmacie pubbliche che hanno ottenuto l'autorizzazione ad acquistare il farmaco all'estero ancora non risulta che abbiano disponibilità del farmaco, cioè che l'abbiano veramente acquistato e quindi sia possibile ottenerlo con la ricetta del medico di base o del cardiologo. La soluzione invece che iCarm ha trovato è stata quella di rivolgersi direttamente alle farmacie francesi e visto il basso costo del farmaco effettivamente questa soluzione sembra essere vincente, quindi vi invito ancora oggi a contattare le farmacie che hanno la disponibilità dello stesso farmaco appunto in Francia, sembra anche in Belgio o nei Paesi Bassi, ma questo naturalmente andrebbe verificato. Un altro problema invece che è emesso recentemente è la carenza del nadololo, in particolare in Sicilia. Dalle nostre informazioni il nadololo è distribuito e presente in tutte le altre regioni italiane, per cui vi invito a insistere con le farmacie che comunque sono obbligate a reperire il nadololo laddove questo naturalmente sia disponibile, quindi nei magazzini nelle altre regioni. E questo credo che potrebbe essere una ottima soluzione per tutti coloro che ne hanno bisogno.